Il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha designato 21 siti ricadenti interamente o parzialmente nel Parco della Spromonte, quali nuove zone speciali di conservazione. Con la istituzione di queste zone, l'Unione Europea ha definito un importante strumento per la protezione della biodiversità e la conservazione degli habitat della flora e della fauna in natura. Le nuove zone speciali del Parco della Spromonte sono state classificate e individuate in ragione delle caratteristiche di pregio a seguito dell'analisi dello stato attuale e della redazione delle misure specifiche di conservazione dei già designati siti di importanza comunitaria. In particolare si tratta di siti a cui il Parco rileva grande attenzione. Il decreto conferma inoltre come il territorio della Spromonte nella sua complessa e variegata orografia rappresenta l'occasione privilegiata per l'integrazione degli obiettivi delle strategie di conservazione della direttiva habitat. Si rileva dunque ancora una volta efficace l'opera laboriosa della struttura del Parco e in questo caso specifico del dottor Luca Pelle in questi mesi impegnato nelle attività di definizione delle nuove zone speciali. Il consiglio direttivo del Parco attuerà fattivamente l'azione di tutela adottando nel corpo regolamentare le misure specifiche di conservazione appena approvate.